Perfetto. Allora, benvenuti a questo primo appuntamento, finalmente si suona. Io sono Paolo Ercoli e sono qua con i miei fidi, Rino Garzia al basso e Gino Caraviri alla batteria. Grazie. Vi proporiamo un trio un po' atipico, ascolteremo un po' di musica magari più strana o poco usuale, ma per non disturbarvi ne faremo poche così. E poi ci faremo aiutare dal nostro amico Jimmy, ragazzon, dove faremo anche altre cose. Iniziamo con questo brano, che è un brano che ho scritto io, che si chiama Why Not. Grazie e buona serata a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.